In occasione di Expo 2015, con il suo grande appeal mediatico, il tavolo Parma4Expo accoglie una delegazione di giornalisti dell'Associazione Stampa Estera di Milano. Gli ospiti arrivati questa mattina a Parma sono 16. I paesi rappresentati spaziano dall'Europa, Austria, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Inghilterra, fino al Sud America con il Brasile, passando per l'Asia e per il Nord America, Stati Uniti e Giappone. Di grande prestigio le testate, per lo più specializzate nell'ambito dell'informazione economico-finanziaria. La giornata parmense dei giornalisti dell'Associazione Stampa Estera è all'insegna delle eccellenze del nostro territorio. Significativo è il luogo scelto per il momento istituzionale dei saluti. Il Teatro Reggio, uno dei simboli riconosciuti in tutto il mondo di Parma, città dalla straordinaria tradizione musicale. Oggi abbiamo accolto una delegazione della Stampa Estera a Parma in occasione del periodo di Expo. Visiteranno oltre la nostra città, oltre il Teatro Reggio all'interno del quale siamo, ma anche il nostro territorio, le nostre industrie. Questo ci dà la possibilità in questo percorso di internazionalizzazione dal punto di vista della concezione della città di aprirci al mondo, di farci conoscere, di trovare il nostro nome e i nostri prodotti in tantissime testate internazionali. Sicuramente un'occasione molto importante in quanto la nostra città, così piccola ma così tanto ricca di prodotti e di valore aggiunto, fa fatica ad essere conosciuta nei contesti internazionali, quindi avere qui questa rappresentativa di Stampa Estera è sicuramente un forte aiuto allo sviluppo della nostra città e della nostra economia.